bella a tutti ragazzi da san patata 3 su minecraft xbox one ragazzi abbiamo la nostra nuova postazione mi sono trasferito guardate qualcosa ho fatto già intanto off camera ragazzi qua c'era uno stagno faccia va bene era pieno di alberi qua e io cosa ho fatto gli ho tagliati tutti ho preso tanta tanta legna poi qua ho creato come c'era questo bel cosa mi sono preso un po di zappe di legno perché lo consumate praticamente a farne due strisce si rompeva una ho tolto tutta l'erba voli qua ce n'è ancora un poca perché c'erano con gli alberi ha tolto tantissimi simissima erba che c'era con i semini li ho piantati ho già fatto del pane anche vedete quindi adesso noi cosa facciamo lì la ho visto ragazzi era un po troppo grigio quella qui invece c'è una zona una baia ci sono tutti i vabbè i terreni dove possiamo potremmo fare le nostre nuove costruzioni e qui ragazzi c'è diciamo il nostro orto che qui ci saranno per esempio magari le carote le patate e qua il grano comunque ho già creato anche un sacco di ceste così vedete il carbone quanto carbone ho trovato ragazzi la legna guardate quanto ne ho fatta vedete quante piantine mi sono preso anche ed ho trovato ragazzi anche tre diamanti che dove ce li ho io no dove sono i diamanti eccoli qua a si perché ho trovato vero la peslazio di pietra rossa ferro che tra l'altro ho trovato altri tipo due stack quasi due stack perché qua sono 63 e 20 di oro quindi ragazzi io direi prima cosa potremmo farci finalmente tutta l'armatura in ferro quindi ci ti mi tiro e mi tiro via questa qua in attesa di quella di diamante quindi io direi di farci l'armatura direttamente in ferro subitissima mente quindi facci elmetto piedi gambalette e ci siamo ragazzi finalmente siamo protetti così già mi piace così così andare in giro sono già più tranquillo poi che dobbiamo fare io direi ragazzi di raccogliere allora mettiamo giù il ferro anzi no cosa importante facciamoci una bussola non con questo ma con questo facciamoci una bussola perché dov'è bussola ma ne facciamo due casomai una la perdo una la ce l'ho già craftata ok quindi una qui una la mettiamo qui perché dobbiamo metterla qua così dov'è che ci porta lui qua a ci porta sempre verso ha capito ci porta qui che poi tra l'altro ragazzi mi sono già fatto anzi fatto è spaccato anche un piccone di ferro adesso ne faremo subito un altro anche due quindi 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 vini 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 picconazzo de ferro 112 perfetto quindi andiamo a rimettere giù il ferro che ci avanza la spada e loro lo mettiamo giù andiamo a farci quindi io devo iniziare a fare il pane raccogliamo tutto qua e ci facciamo tutto il pane ripiantiamo tutto allora vediamo quanto pane ci abbiamo fatto ma ne abbiamo ancora due vediamo quanto pane riusciamo a farci prima di andare a dormire prima che venga qualche nostro amichetto a farci visita quindi abbiamo dormito siamo a posto facciamoci il pane quanto ne facciamo quasi uno stack di pane ragazzi questo ci va bene tanto piantato tutto adesso abbiamo due coltivazioni intere due campi interi più una striscietta tanto finchè non ho le cose quindi abbiamo sì buongiorno il ferro mettiamo giù il ferro che non ci serve io direi di mettere giù no queste mi prendo uno stack uno stack perché non si sa mai magari con le torce ci fa sempre comodo non qua va bene dai facciamo così dove il carbon carbon e eccolo qua ci prendiamo uno staccatino di carbone che ci fa comodo io direi di farci anche un fabbricatore 15 per neanche si dice così penso eh ah facciamoci anche una barca si ci manca questo ecco qua ce la facciamo perfetto quindi mettiamo giù la legna picconazzo di ferro ce l'ho questo ce l'ho ok ragazzi quindi io direi così così quindi ragazzi io direi di ehm quest'oggi eh la ho piantato tre cane da zucchero un cavallo che io non ho ovviamente la sella però mi fa bene che spawno nei cavalli qua vuol dire che non avevo un problema trovarli qua c'è un pollo che ha fatto una un uovo perfetto lasciamo come farm leggera di uova e quindi ragazzi io direi di fare una beh la barca ce l'ho già di andare fare una canna da pesca e pescare prima di tutto dobbiamo trovare del pesce quindi fatemi trovare la no qui no qui no qui no qui eccoli qua devo trovare la si la scassa dei drop dei mostri posso farmi l'arco no mi faccio questa e poi lascio qua e noi andiamo a pescare ci prendiamo dei pesci perché come ho capito se si dà da mangiare dei pesci e delfini loro ci portano nel diciamo nel loro dei tesori si guidano nei tesori però bisogna stare attenti ai mostricciatoli che abitano che infestano la zona quindi allora io direi innanzitutto di mettere chi c'è qua ha un pesce perfetto non ci sono quei simpatici io qua ci metto un po' di torce perché io vorrei stare qua anche quando è buio quindi ok ce ne facciamo tanto vuole stare che quando è buio così non spawnano i nostri amici e andiamo a pescare ah cavolo aiuto che paura non si fanno questi scherzi qua eh però ci è andata bene dai ok ok quindi qua diciamo che abbastanza illuminato meglio sempre un paio in più anche sotto l'albero bene ragazzi io comincio a pescare il primo pesce della stagione ragazzi è con voi ok 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 ho preso un pesce però ne voglio ancora la la ancora uno prima che faccia buio buio tra l'altro ho visto che quei cetrioli di mare sono tipo delle luci mannaggia è scappato mi sono distratto ok quante ne abbiamo 19 tra l'altro ho recuperato anche una targhetta che bello 5 pesce palla 4 salmone crudi perché ci serviranno tantissimo scusate per ci servono tantissimo per eh come si dice per le pozioni di apnea quindi ci serviranno un sacchissimo quindi a noi adesso andiamo su andiamo diciamo che possiamo andare anche a dormire che male non fa andiamo 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 e con la col bel tempo andiamo a navigare ok il cavallo è lì sempre lì qua sotto io ho preso anche le frecce che erano là perché lo scaletto ha bruciato dunque ordunque io direi adesso ragazzi di andare a prendere a mettere giù la barca che non sarà qui il porto ragazzi ma sarà un po' più avanti a sinistra l'ho già visto c'è una baia proprio tipo per di là se voi la vedete dall'alto c'è un ingresso spettacolare quindi ragazzi se noi adesso devo equipaggiarmi col pesce ecco il delfino vieni qua vieni vieni che ti do oh caspita c'è il schifoso lì vai via va bene dai prendiamoci un altro delfino non voglio andare a trovare i cosi lì uh che bello il mare ragazzi però eh ok mi serve un delfino un delfino eh l'ho sentito dove sei? vieni qua mangia mangia il pesce ok va di là il pesce palla si è gonfiato uh è lì sotto eh il tesoro ragazzi abbiamo un tesoro qua sotto eh dove è andato il delfino? no no qua sotto qua giù in fondo no è troppo per me però però io spero che mi indichi qua ecco un altro delfino eh eh buongiorno mi scusi eh dov'è? di là? è un momento uh caspita quanto corre uh vabbè ma andiamoci in barca no? comunque siamo vicino a un tesoro eh adesso me lo faccio indicare dal delfino di nuovo quindi era di qua là c'è un delfino quindi adesso magari chiediamo a questo qua vieni 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 qua vieni vieni dove devo andare? oh magna? dov'è? lì ma lui indica... ah c'è una struttura privata ragazzi c'è una struttura privata buongiorno c'è un eh coso qua come si chiama? un vabbè l'avete capito? un ah caspita c'è porcaccio questo qua sono cattivi no 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 ammazziamo ragazzi perché questo qua fa veramente tantissimissimissimissimissimo male quindi qua ci deve essere allora un tessoro questo non me lo posso prendere io no vabbè spacchiamo qua oh di nuovo io scappo ragazzi eh questo fa male eh dov'è? dove caspita di ne sono veramente stressanti eh sti caspita di 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 affogati ce n'è una marea ce n'è proprio proprio nel vero senso della parola eh dov'è? non mi fanno neanche andare nelle rovine è che non li vedo eccolo lì dove sei? ah lì che sei? oh 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 vai ola ragazzi che sollievo mangiamo e recuperiamo tutta l'energia e torniamo giù a scavare finalmente ragazzi l'ha droppato finalmente ho il mio tritone anch'io che si lancia due ne ho tridente no tritone tridente cavolo 8 di danni fa fa male eh ok quindi ragazzi l'ho preso anch'io per la prima volta quindi eh adesso c'è il pesce palla che è gonfio adesso eh scusate però non c'è beh lasciamo stare io devo capire dove è il tesoro qua se il delfino mi ha indicato qui qui ci deve essere un tesoro no neanche a morire vabbè proviamo a scavare ancora di più poi ah no no questo è qualcosa uh eccolo la ragazzi lo no no guardatelo guardatelo e io vado qua io tanto sicuro mi indicava quello lì eh se trovavo la mappa vi da la mappa che bello ragazzi il nostro primo tesoro ok picconazzo andiamo su facciamoci una scalinata dov'è di qua saliamo di qua noi così così ok ragazzi il nostro mitico tesoro stiamo per aprirlo eh mangiamo prima ragazzi abbiamo due dischi musicali una pozione di apnea che possiamo aumentare con la redstone una tnt un diamante e del ferro questo qua ragazzi non ho più pari idea di cosa sia cuore del mare ma ce lo prendiamo ovviamente l'armatura si questa qua tra l'altro non so che cos'è conchiglia del nautilus allora tiriamoci via un momentino no ma l'armatura c'ho il ferro non me la lascio lì corallo blu morto eh se sei morto ragazzo che te devo dire te butto via allora quindi via questa via la carne marcia via questo eeeh poi via questo via questo pesce e palla neociclo mi serviranno ragazzi io direi che quindi torniamo a casa che fa buio però nel frattempo ragazzi spero che di non riprendere tutti i drop ok perfetto io mi ritorno a casa ragazzi quindi questo primo tesoro è stato abbastanza profitto abbiamo trovato un diamante abbiamo trovato tantissime cose spero che quindi questa serie vi stia piacendo se avete qualche consiglio o qualcosa scrivetemelo pure nei commenti come sempre io vi ringrazio e vi saluto ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti